Mestizia, mestizia e disagio, andiamo con il momento Sì, per affrontare bene la giornata E bene usare La rubrica di film horror che vede Flavia Li vede tutti Perché prima o poi uno bello lo trova Stavolta l'ho accompagnata anche io E stiamo parlando di Immaculate, la prescelta Allora Ne abbiamo già parlato Ne abbiamo parlato perché il trailer uscito mi sembra a giugno forse Però in realtà quello originale era uscito a gennaio Era nei radar da diverso tempo Esatto, che vedeva proprio la protagonista, Cindy Swini Che leggeva dei passi della Bibbia Forse era un salmo, ora non ricordo neanche bene Ah, come me Vabbè, lasciamo stare Sì Quindi aspettavamo che arrivasse questo Immaculate La prescelta In cui lei compare Diciamo un po' in veste di nuova Madonna Madonna non quella Quella vera La mamma di Gesù E questo film fa parte di questa Diciamo categoria della non-sploitation Quindi i film di suore male Noi ne abbiamo visti alcuni Tant'è vero che c'è questa recezione di Wilde che si apre con Suore horror, suore horror, suore horror E un punto esclamativo Quindi immagino che Insomma L'hai scritta tu questa intervista No, non l'ho scritta io Però dice una cosa che mi trova d'accordo Allora, in generale Andiamo con ordine Questo è un film che ha come protagonista appunto Sydney Swini Che in realtà fa parte anche della produzione È la produttrice È la produttrice Sydney Swini che forse ricorderete per Euphoria e per un sacco di altre cose E che è al momento un'attrice molto quotata ad Hollywood Pur essendo abbastanza giovane È la storia di questa suora Che si trova ad essere Come dice anche il titolo Fondamentalmente la prescelta Quindi Se c'è di mezzo Maria Se c'è di mezzo una suora C'è di mezzo una gravidanza E va Basta Io direi che questo può essere Diciamo l'elemento Suore Cecilia Si trasferisce dagli Stati Uniti In Italia È un film girato in gran parte a Roma Se ho capito bene Villa Patrizzi Se non sbaglio A Monteporzio Bellissima Bellissima Una villa stupenda Che non avevo idea esistesse Ma è veramente molto molto bella Il film è girato praticamente tutto lì dentro Esatto Nella villa c'è praticamente questa sorta di Come dire Ordine monale RSA per le sue Ma va Eh beh ma sì L'asilo per sorelle No non è una sì Vabbè l'asilo nel senso Il ricovero Di sorelle In fin di vidi Di suore diciamo Terminali Anche sopra il mio liceo C'era la stessa cosa Ma per Guarda che mica è una parolaccia Una RSA per suore Ci sta Gestita da altre suore Comunque insomma Lei viene Mandata lì Per prendere i voti Perché in realtà Quando arriva lì Non ha ancora presi i voti E per Aiutare Diciamo Le altre Consorelle In questa situazione Ok Cosa Cosa ha di Interessante E cosa meno Tu fai quello interessante No io posso dirle entrambi Poi tu dirai la tua Vabbè Secondo me La cosa migliore Di questo film È lei Cioè Sidney Sweeney Perché Come anche recita Il titolo Di questo articolo Di Wild Il film consacra Sidney Sweeney Come Scream Queen Del momento In effetti Sidney Sweeney Ha proprio Il physique du role E anche la capacità Attoriale Per fare la Scream Queen Chi è la Scream Queen? La Scream Queen È la protagonista Degli horror Quindi Quella che è un po' Diciamo anche L'eroina Cioè C'è colei che In molti casi È anche quella Che sopravvive C'è differenza Tra Scream Queen E Last Girl? Questa è una domanda Che dovresti fare A persone Che fanno questo Di mestiere Non a me Perché non me lo ricordo Last Girl È quella che rimane La sopravvissuta Credo che possano coincidere Ma non sono Finonimi La Scream Queen È Colei Insomma che Attorno alla Quale ruota Un po' Tutta la trama Dell'horror È un po' Anche quella Che parte Come svantaggiata Che parte Come vittima Ma tira fuori Una potenza E una forza Inaspettate Che la portano In effetti A sopravvivere Nella maggior parte Dei casi Comunque lei È perfetta Per questo ruolo Perché ha proprio L'aspetto angelico Cioè l'aspetto Proprio di persona Pura Ma che sa Tirare fuori Una grande energia Anche una grande Combattività E questo film Devo dire Che secondo me Da quel punto di vista Funziona Non vi racconterò Altro Ma in particolare Nelle scene finali Secondo me Lei fa Egregiamente Il suo mestiere In maniera Molto buona Il film in sé Io l'ho trovato Invece un po' debole Dal punto di vista Della trama Nel senso Che è una trama In realtà Già abbastanza sentita Molto sentita Se avete visto O vi è capitato Di ascoltare La nostra recensione Abbiamo fatto La recensione Di sorella morte La recensione Di sorella morte Che è un film recente Un altro Non-sploitation Un altro Con le sue Alle protagoniste Si andava un po' In quella direzione Diciamo che Era ritornato Un po' Il mood Maternità E horror Che non è un male Ci sta bene Anzi Forse è anche utile Parlarne adesso Tra l'altro Il finale di questo film Che ovviamente Non vi svelerò È molto Secondo me Interessante Anche nel dibattito Sull'aborto Così La butto là Chiuso questo Diceva Un film in realtà Che io ho trovato Un po' debole Soprattutto dal punto di vista Della paura Perché è un film Che a me Personalmente Non ha spaventato Quasi per niente Praticamente per niente È vero che io sono abituata A vedere gli horror Quindi ho una soglia Di paura abbastanza alta Però mi sembra Che non ci sia stato Neanche un grande impegno In quella direzione Forse è un po' Una scelta Quella di voler Dare Istillare La paura Piano piano Attraverso più Un'atmosfera Che delle scene Scelta che io Abbraccio Se però funziona Cioè In questo caso Mi pare che l'atmosfera Non sia Abbastanza spaventosa Da poter Effettivamente Creare un clima Orrorifico Non è un brutto film Però appunto Speravo Speravo decisamente di meglio Forse L'hype In questo caso Gioca un po' A sfavore Perché Stavamo lì Tutti ad aspettare Questo film E Tutti Molti Ad aspettare questo film Ma c'è poco Forse da Da godere È un pochino Deludente L'intorno Del film Tra l'altro Se avete già visto Alcuni film citati Qualcosa vi risuona Quasi preso E trasportato Ecco in questo caso L'ora in mezza del film Che per carità È un orario civile È una durata civile Secondo me Poteva essere addirittura Alleggerito No Potevano metterci qualcosa in più Mi sembra che il film Sia un po' povero Dal punto di vista Delle cose Da dire Mi metto nei panni Del distributore Del regista Del montatore E se è troppo lungo C'è troppa roba E se è troppo corto C'è troppa poca roba Ma non è che è corto Cioè non è che c'è poca roba Perché è corto Qui c'è poca roba In generale E in più è pure corto Ecco In Tra l'altro Fabrizio scrive Al 351 5241 101 In Italia È pieno Di queste RSA Di questi Ma poi scusami Stavo leggendo sempre La recensione di Wild Mon Mon che è il regista Usa in modo creativo E accattivante I simboli della fede Ma si affida un po' troppo Ai jumpscare Ma a me non mi pare proprio Io anche di quelli Ne ho visti pochi Il che Da un certo punto di vista È un punto a favore Perché appunto Vuol dire che tu Non stai facendo il furbo Non stai cercando di spaventare Solo con i jumpscare Però almeno due o tre Metticeli Sennò che lo stiamo a vedere A fare sto film Il film È una produzione Americana Stato in tense Abbiamo detto che Sidney Sweeney È la testa di ponte Della produzione Ci sono altri Tre produttori Dietro di lei La casa di produzione È Black Bears Pictures E anche 5050 Films Arriva in Italia Grazie ad Adler Entertainment E Leone Film Group Quindi Essendo anche girato Nel 100% delle location In Italia A Roma Nell'internet romano Figurano anche molti volti noti Molti attori e attori Italiani Benedetta Porcaroli È Suor Gwen Suor Gwendalina Non capisco perché Lei Che è italiana Si chiama Cecilia Benedetta Porcaroli Che è italiana Si chiama Gwen Ma forse è una citazione A Spider-Man Sicuramente la madre superiore E il cardinale Franco Merola Sono rispettivamente Interpretati da Dora Romano E Giorgio Colangeli Giorgio Colangeli Probabilmente ve lo ricorderete Come il nonno maledetto C'è ancora domani Il film della Cortellesi Che probabilmente anche Le tecole di casa nostra Hanno visto Cosa bella Dora Romano invece È la signora La nonna molesta La nonna che non Quella che mangia la mozzarella Quella che mangia la mozzarella È stata la mano di Dio Lei stessa Tra l'altro È anche dentro Omen L'origine del presagio Ah si Sì Me la siamo persa Non me lo ricordo Ma sempre tenendo Come Corrimano E come Appiglio È stata la mano di Dio Betty Pedrazzi Che è la signora Del piano di sopra Che il protagonista Incontra Coinquilina Del protagonista Del film Di Sorrentino È molto importante Un personaggio Molto importante Del film Con primario Anzi quasi antagonista O coprotagonista Alvaro Morte Sì O Alvaro Morte Veramente Sì perché forse Non è spagnolo Che è il colui Che traduce L'unico Padre Sal tedeschi Sì Che è appunto Il contatto di Suor Cecilia In Italia Colui che la porta A Roma Ma soprattutto Colui che traduce L'italiano Alla suora Inglese Anzi americana Leggevo una breve intervista A Benedetta Porcalori Rispetto a questo film Mi colpisce una frase Su Sidney Sweeney Lei ha girato Euphoria Quando noi abbiamo girato Baby Pur non conoscendoci Sapevamo che questi due Teen Drama Erano usciti Nello stesso periodo Ora tesoro mio Con tutto l'affetto del mondo Che tu sei anche brava Ma paragonare vagamente Anche solo sullo stesso piano cronologico Baby Euphoria Io forse No Però vabbè Comunque escluso questo Molto brava da Porcalori Il problema è che Fa Cioè è un po' Comparsina Diciamo Nel senso che No Potrebbe fare ancora di più Secondo me Avrebbero potuto darle Forse più spazio Cioè fa un'uscita di scena A un certo punto Che è veramente Un po' buttata lì Sono d'accordo però Che avrebbe meritato più spazio Ha un ottimo inglese Ecco mi sembra Piuttosto credibile Mi sembra come se aprissero Tante strade Ma le lasciassero Così Un po' buttate là Sicuramente c'è anche Un'interessante critica L'ho detto prima Rispetto alla maternità Alle figure maschili Anche all'interno della chiesa Alle figure maschili Che gestiscono Il corpo della donna E che cercano Come al solito Di controllare Di dare Di decidere loro No Di usare un po' Come contenitori Queste donne Questo sicuramente c'è Ed è anche molto interessante Però mi sembra che rimanga Tutto sulla superficie Tutto un po' così Appeso E non ci dà la possibilità Di affrontare bene Niente Se non appunto Grazie alla capacità Di tutti gli attori Mi verrebbe da dire Tutti bravi Forse questo Lui è un pochino Più appeso Alvaro Muerte È un po' appeso Lui Devo dire Potrebbe essere Più interessante Lo ricorderete Perché è il professore Nella casa di carta Chi l'ha mai visto Io non l'ho visto Però so che Credo sia il progonista Della prima serie Benissimo Intorno a lui Si gira Tra l'altro Connessione tra Acculate Ed Euphoria Anche In entrambi i film Sidney Sweeney Vomita In piscina Vero Quindi Non è l'Euphoria È l'Euphoria Eh sì Ah sì Eh sì Bene Al 351 5241 101 Grappaman scrive A proposito di horror Non so se già Ve l'ho chiesto Martyrs No però Lo volevo vedere Lo volevo vedere Credo di sì Ho visto su YouTube Su sì Google immagini Le immagini E credo che lo vedrai te Perché è una roba Sì ma era lui Che ce l'aveva consigliato Se non sbaglio Vero? Sì sì Credo di sì Grappaman Io Mi ascolterò La recensione di Flavia Perché di questa Di questo documentario Sul cuoio O sul L'uso della pelle E su come si concia la pelle Ma che stai dicendo? Sto dicendo cose Per aggirare il fatto Che ci sono Torture Gente scuogliata Che non voglio neanche pensare Però Lo vedi tu Sì potenzieri Esatto Bene Come dal punto di vista Della colonna sonora Il film pure Resta sulla superficie Stiamo parlando di Immaculate Il film esce al cinema Tra pochi giorni Il giorno Delle uscite Del film È giovedì Quindi da giovedì prossimo Al cinema Film estivo Ecco È quello che Prima succedeva Ad agosto Adesso A luglio L'horror è sempre stato Molto amato D'estate C'è un sacco di film Horror Escono d'estate Però Sai perché? Perché? Perché tutti i ragazzi Perché ci sono i ragazzini Certo Vanno al centro commerciale Dove c'è l'aria condizionata E poi comprono i pop corn E poi vanno a vedere Gli horror Però ti posso dire Un tempo non c'erano i cinema Dentro i centri commerciali E questa cosa c'era lo stesso Quindi è più perché i ragazzini Sono in vacanza E sono il pubblico maggiore Degli horror Visto Quindi questa frase fatta Lascia letteralmente Il tempo che trova Non lo so La colonna sonora Resta appunto Abbastanza sulla superficie Non resta nel cervello Per più del tempo Appunto Del film Ma I titoli di coda Hanno Ovviamente Una citazione Da Schubert Quante persone Hanno Coverizzato Hanno reinterpretato L'Ave Maria di Schubert Sono andato a cercare Su Second Hand Sons Mi aspettavo cose più Arzigogolate Grandissimo impiego Dell'Ave Maria di Schubert Nei Christmas album Negli album di Natale Io non capisco Si La Natale Nel senso La natalità La festa Della famiglia Blah 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 Però mi fa un po' strano Però Tra le tante versioni Ce n'è di Stevie Wonder C'è di Diana Ross Che credo sia la peggiore Che ho ascoltato ieri sera Non ne ho ascoltato tutto E confesso C'è il volo Che non ho ascoltato Quindi Diana Ross Faranno la versione lirica normale C'è Celine Dion ma Bobra Streisand Bobra Canta così E torniamo a far sentire Musica di Natale A Col caldo Buon ascolto C'è di Diana Ross C'è di Diana Ross C'è di Diana Ross